In questo momento sto effettuando il ritocco pittorico sulle parti a brase dell'affresco e lo sto facendo in modo puntuale, dove invece abbiamo fatto una stuccatura un pochino più grande rispetto alle abrasioni che viene fatta appunto con la malta naturale con la farge, che è calce e inerti di pietra. Andiamo a fare una ricostruzione cromatica sempre a puntinato in modo tale che la superficie con stuccatura sia comunque uniforme al resto dell'affresco che ovviamente avendo subito vari interventi ed avendo una certa età si presenta comunque già molto mosso e a braso.